Piccola grana per l'attuale Presidente degli Stati Medi d'America, ossia Joe Biden, sarebbe stata aperta infatti un'indagine, un'indagine per impeachment in relazione a delle presunte complicità con gli affari esteri del figlio di nome Hunter Biden, è stato con spiegare l'Americana di informarci di tutta questa realtà che si chiama Kevin McCarthy, dunque il Presidente americano Joe Biden rischia di impeachment, infatti avrebbe mentito, avrebbe briffato il popolo americano riguardante gli affari esteri della sua famiglia e questo aver mentito potrebbe far sì che Joe Biden rischi il cosiddetto impeachment, va bene? Per aprire l'indagine dovrebbero servire più di 200 voti ma sembra che al momento lo speaker non possa contare su un cuono perché c'è un certo scetticismo da parte dei relativi repubblicali, insomma una vicenda questa che ha delle incredibili ma al tempo stesso che pone un arone di mistero dubbio e di negatività su Joe Biden e l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America. Iscrivetevi, commentatevi, ciao da Anna Rado di Gadeano.